Con i finanziamenti ricevuti l'obiettivo è quello di creare nuovi posti di lavoro. Stiamo cercando delle figure da inserire qua all'interno di Hub nella sede di Bari e con questi finanziamenti siamo pronti a testare la soluzione sul mercato. Un nome tutto sardo per un'idea made in Puglia, piccole start-up crescono. E' il caso di Zibu, azienda innovativa che ha catturato attenzione investimenti di CDP Venture Capital Fondo Nazionale Innovazione tramite il Fondo Italia Venture Secondo. Un risultato ottenuto grazie a Sprint Factory, l'accelerazione di impresa di Impact Hub Bari che porterà nelle casse della start-up fondi comprensivi della quota di co-investitori privati per trasformare le idee in impresa. Ma di cosa si tratta? Ce lo spiegano direttamente i fondatori. Zibu è una piattaforma tecnologica nata per digitalizzare i piccoli produttori che fanno produzioni alimentari di grande qualità. È un moltiplicatore di occasioni di vendita online attraverso la nostra piattaforma possono caricare i loro cataloghi e i loro prodotti in maniera assolutamente automatica e la piattaforma li connette con i principali marketplace che vendono i loro prodotti. Stiamo facendo una fase di test con circa 20 produttori e stiamo concludendo gli ultimi accordi commerciali in modo poi da legare la piattaforma con i marketplace di vendita. Stiamo appunto, come dicendo, lanciando la piattaforma sul mercato quindi confidiamo che i produttori a presto potranno vedere i messaggi sui principali social network. Su zibu.com c'è un form per contattarci, per testare la soluzione. Nasce con l'idea di digitalizzare l'agricoltura e distribuire l'agricoltura e connetterla a tutto il mondo.